Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove per lavori tra Montelupo, Fiorentino ed Empoli Est si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno e rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze. Sempre per questi lavori è entrata chiusa ad Empoli Est in direzione Firenze. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo di Bargino per chi viaggia in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Betolle rallentamenti tra Casetta-Monteaperti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano-Terme e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!